Allora siamo al termine di un concerto bellissimo qui a Cutrofiano, Nello Daniele che si è appena esibito con alcuni musicisti storici della band di Pino Daniele. Nello che effetto fa ritornare sul palco come tu stai facendo e continui poi a portare questa magia di Napoli e delle canzoni? Ma sai, è da un bel po' che stiamo girando, poi ho fatto un disco che quest'anno è anche in concorpenza con altri dischi al premio tempo, quindi sono in corsa per un disco in dialetto, sono arrivato a Napoli, ai popoli del mare poi, quindi oggi il dialetto in napoletano non è più un dialetto ma è una lingua, quindi poi è chiaro che durante i concerti ci sono dei musicisti storici, noi ci divertiamo con i brani di Pino ma anche con i brani personali, quindi la nostra musica, il blues metropolitano è quello che Pino ha aperto un po' la strada a tutti noi, assolutamente, quindi è chiaro che io non ho mangio a chi Pino, non c'era bisogno di essere omaggiato, per noi ci divertiamo, abbiamo attinto tanto, io come musicista e come fratello, ma io l'ho mangio tutte le sere quando ho la letta e quando mi alzo, però quando ci troviamo sul palco si sa quando incominciamo a suonare Pino, non si sa quando finisce, quindi perché ci divertiamo con il pubblico, ormai è un appuntamento che la gente ascolta quello che facciamo attentamente, quello che mi fa piacere è che ascolta i miei brani, ascolta anche i brani che facciamo importanti della musica blues napoletano, blues sereano, e poi quando arriviamo a Pino, ecco, ci fa piacere che resta tutto su un certo livello, che il pubblico tiene sempre un'attenzione particolare, sia con le pezze di Pino, sia con la nostra stasera hai suonato con quattro mostri sacri, Vitolo, Zurzolo, Dirienzo, Romano, sembrava di sentire le atmosfere e dei concerti nero a metà, musicante, diciamo gli ultimi, anche il tour di Pino, che l'abbiamo fatto a Napoli, con le ultime date, che ho partecipato anche io, era nero a metà, mancava qualcuno che è in tour, ma con lui a volte si aggiunge anche a Rosario Germani, che è saluto, adesso sta con Renato Zero, poi ci raggiungerà quest'estate in altre tappe, quindi sarà un tour veramente molto, qui in Puglia, da queste parti, saremo in tanti posti, saremo a Nardò, saremo anche a Gallimpoli, l'agosto, il 14 agosto, tanti potranno venire a gustare, sì, sì, poi so che ci sono tanti napoletani e tanti amanti, assolutamente, assolutamente, per concludere, ho sentito una interpretazione molto intensa di Chitene Omare e di Napolet, l'hai fatta in un modo molto intenso, intenso proprio viscerale, ho sentito che veniva dall'anima, eh? Ma sai, io non mi posso giudicare, perché comunque io non sono un fan di Pino, prima di essere fanno, quindi so sempre molto attento quando si devono toccare i brani di Pino, allora, se li stravolgi, sai che succede? Succede che puoi diventare presuntuoso che tu stravolgi di pezzi importanti, ma ci mettiamo del nostro a non fare nemmeno una cover, che non sia una cover band, quindi l'espressione di suonare, che a me piace tanto, ho detto tanto da lui, ma ho detto tanto dalla chitarra, quella che non ci lascia mai, e a volte ci porta anche a dosare di più, no? A fare qualcosa di diverso, però l'anima resta quella, quindi di suonare le canzoni di Pino, mi ha lasciato un quadro, un quadro e noi dobbiamo fare la cornice giusta sempre, dobbiamo metterci sempre qua, quando lo suoniamo, se si paghiamo cornice, non veniamo il quadro. Nello, io sto per salutarti, bravo anche Salvatore Pagano, a portarti qui questa sera, oltre che la mia agenzia, oltre che la mia agenzia, il mio produttore, ma no, certo, certo. Vuoi salutare il Salento per concludere così, questa terra è così simile alla tua, poi? Guarda, è molto vicino alla nostra, quindi ci sto venendo spesso, fortunatamente, ci vedremo ancora per un po', anzi ad agosto ci vedrete spesso qui, partendo anche a luglio faremo qualcosa, quindi ragazzi, forza Salento, forza musica, forza musica, buon tutto a tutti. Nello Daniele, ciao Nello, ciao Nello, ciao.